Musica Cura del ferro, TPL, integrazione dei trasporti, in altre parole la Toscana della mobilità e delle infrastrutture illustrata attraverso la fotografia scattata dal PRIIM, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità, al centro della giornata organizzata dalla Regione Toscana al Teatro della Compagnia di Firenze. A fare gli onori di casa l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che ha ricordato i principali interventi attuati in Toscana sul fronte delle infrastrutture nell'ambito del piano, che tra 2014 e 2020 ha assegnato oltre 3 miliardi e 850 milioni di euro del bilancio regionale provenienti da fondi europei, nazionali e regionali. Obiettivo, dotare la Toscana di collegamenti più fluidi e moderni. Come ogni anno facciamo il punto sull'avanzamento della realizzazione infrastrutturale in Toscana, facciamo il punto sulla mobilità in generale, quindi anche il trasporto pubblico locale, e siamo qui per riaffermare la necessità della realizzazione delle opere che sono state programmate, che sono in fase di realizzazione, in alcuni casi che stanno da troppo tempo aspettando di essere realizzate. La carrellata di opere realizzate o in corso di realizzazione in Toscana è ampia e riguarda sia il trasporto pubblico che la viabilità. Tra i principali interventi, i lavori per le terze corsie dell'autostrada del Sole A1, il corridoio tirrenico e il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, lungo il quale sono già in corso i lavori nel primo lotto di 13 chilometri tra Pistoia e Montecatini e il potenziamento della Prato-Bologna. Sotto i riflettori in particolare il nodo fiorentino dell'alta velocità ferroviaria, con il sotto attraversamento che per l'assessore Ceccarelli va portato a termine, lasciando i treni regionali in superficie, rivolgendosi a rete ferroviaria italiana nel corso della tavola rotonda sul palco del teatro della compagnia, l'assessore ha anche chiesto che siano elaborate soluzioni per alleggerire il traffico, separando i treni dell'alta velocità da quelli regionali, già a sud, dove si registrano i problemi maggiori di congestione delle linee. Le opere che sono programmate, che sono in fase di svolgimento in Toscana, vanno completate. Questa è per noi una priorità, anzi in alcuni casi, vedi il sotto attraversamento, il tempo che è trascorso è anche troppo e le cause sono state molteplici. Non solo noi abbiamo bisogno di realizzare tutte le opere che sono state programmate in Toscana, ma abbiamo bisogno di andare oltre. Per quanto riguarda il ferroviario, ad esempio, abbiamo chiesto ad RFI di studiare una soluzione che oltre al nodo fiorentino sia in grado di separare il flusso dei traffici prima di arrivare a Firenze. Quindi con una sorta di raddoppio della direttissima a partire dal Val d'Arno, perché il nodo di Firenze è un nodo che non solo penalizza il traffico ferroviario regionale, ma è un nodo che intoppa, un po' rallenta il traffico ferroviario nel paese. Questioni poste direttamente all'attenzione del neo sottosegretario e alle infrastrutture Michele Dell'Orco, che in Toscana ha fatto la sua prima uscita pubblica da rappresentante del governo per incontrare la regione e i rappresentanti degli enti locali con cui, ha detto, occorre confrontarsi per valutare la sostenibilità delle opere infrastrutturali. Noi vogliamo portare avanti tutte quelle piccole opere che servono, stradali e ferroviari, che servono ai cittadini e in generale ai toscani. Ovvio invece su alcune grandi opere ci sarà una revisione, ci sarà un'analisi più approfondita dei costi e dei benefici per capire cosa serve ai cittadini e cosa serve invece solamente a chi andrà a costruire quell'opera. Comunque possiamo tranquillizzare la regione toscana. Abbiamo già ricevuto alcune istanze di revisione di alcune grandi opere, ma in generale noi vogliamo, insieme alla revisione del codice degli appalti, iniziare a capire cosa si può portare avanti in maniera più veloce, e cosa si può snellire per procedere ancora ulteriormente alla creazione di una rete infrastrutturale che sia efficiente come serve al nostro paese e come serve alla Toscana. Una rete infrastrutturale che comprende anche il trasporto pubblico locale su gomma, con il contratto ponte stipulato in attesa dell'esito del contenzioso tra i due concorrenti nella gara per l'affidamento del servizio a un solo gestore, prosegue il rinnovo del parco bus. Tema di discussione è anche l'adeguamento tariffario dei biglietti a livello regionale per eliminare le 292 diverse tariffe che al momento esistono, tariffe unificate dal 1 luglio con aumento del costo dei biglietti per adeguarli agli standard nazionali, ma anche abbonamenti agevolati per chi ha ISEE inferiore ai 36.000 euro e tariffe ridotte per lavoratori e studenti. Questo contratto ponte ha portato molte anticipazioni di quelle che erano gli effetti positivi della gara, quindi arriveranno oltre 400 mezzi nuovi, saranno installate oltre 170 paline intelligenti, sarà rafforzata l'informazione attraverso il sistema AVM, quindi maggior corso, maggiore sicurezza. Ovviamente accanto a tutte queste cose definiamo le simpatiche, ce n'è anche una meno simpatica che è quello dell'adeguamento dei prezzi del biglietto, per cui nell'urbano di tutti i capoluoghi di provincia regionali si pagherà 1,50 euro, che fra l'altro è una cifra già in vigore in molte città italiane, nel piccolo urbano si pagherà 1,20 euro, c'è anche una omogeneizzazione per quanto riguarda le tariffe dell'extraurbano che hanno preso a modello le tabelle chilometriche del treno. Goma e ferro dunque anche tramvia con le nuove linee in partenza a Firenze e complessivamente finanziate dalla Regione Toscana con circa 50 milioni di euro che sono state al centro di un'ampia discussione nella tavola rotonda sul palco del Teatro della Compagnia. Ora si attende il parere della Commissione Ministeriale sulla partenza, programmata da tempo il 30 giugno della linea 3 dalla stazione di Santa Maria Novella a Careggi, mentre per la linea 2 si pensa alla fine di agosto, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Quindi siamo in attesa di questo nulla osta, o altrimenti ci diranno se occorrono ancora qualche giorno di prova oppure ci diranno da quando potremmo metterla in esercizio. L'aspetto fondamentale è che noi abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare e quindi da questo punto di vista i lavori sono stati completati nei tempi, che è stata fatta la fase dei collaudi e mi hanno detto va tutto bene, anche in questi giorni sta andando tutto molto bene, abbiamo stressato la linea mettendo molto più convogli di quelli che ci saranno al regime. Mobilità significa anche informazione in tempo reale ai cittadini e puntualità di treni e bus. Sul fronte dei treni la Regione ha avviato anche un monitoraggio dell'andamento dei 100 treni che di solito sono più affollati, con i tempi di percorrenza registrati nelle stazioni di partenza, di arrivo e anche in quelle intermedie, perché infrastrutture efficienti, dati IRPET alla mano, sono anche un volano di crescita con un impatto importante sul PIL e sull'occupazione regionali. Punto importante e fondamentale sono il rinnovo dei mezzi sia su ferro che su gomma e questi hanno permesso di arrivare a tutta una serie di indicatori, di elementi di qualità che possono essere misurati oggi e possono essere misurati anche in futuro. In particolare sul servizio ferroviario le persone oltre il 20% in più rispetto al 2010 sono gli utenti del treno. Abbiamo una maggiore puntualità, una puntualità che si attesta su un dato importante da parte di Trenitalia ma su cui vogliamo sempre ulteriori miglioramenti e che vogliamo monitorare periodicamente. Una Toscana in cui gli utenti del sistema aeroportuale sono in crescita, oltre il 30 al 40% in più rispetto al 2010 e una previsione della Toscana in cui sulla base delle previsioni infrastrutturali, sulla base del programma di investimenti che abbiamo riteniamo si possano attivare sulla base degli studi anche che svolti da IRPET oltre 10.000 unità di addetti diretti e indiretti dalla realizzazione di infrastrutture e servizi nei prossimi 10-15 anni. Al nuovo governo si sono rivolti anche i comuni toscani attraverso l'Anci per chiedere che le infrastrutture e la mobilità siano sempre ai primi posti nell'agenda dei provvedimenti da attuare sul territorio per far sì che centro e periferia della regione siano sempre più connessi. Chi è ora al governo, i parlamentari sono stati eletti che sono in maggioranza e come dire si impegnino per portare, non solo per confermare le risorse che già ci sono oggi ma per portare anche altre risorse per potenziare tutte le infrastrutture sia quelle principali sia quelle minori perché bisogna ricordare anche l'importanza di rendere fruibili e accessibili tutti i territori più marginali. E quando si parla di mobilità si parla anche di quella ciclabile a cui dal 2017 sono stati destinati quasi 3 milioni di euro per percorsi in ambito urbano e oltre 4 milioni per il sistema ciclabile, ciclopista dell'Arno e sentiero della Bonifica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS